C'è nel senso che ha cominciato lei, nel senso che ha cominciato lei, in 5 febbraio, primo febbraio, primo febbraio scusate, primo febbraio eravamo in 5, lì, no erano, perché io sono arrivato la settimana dopo, erano in 5, lì in mezzo pioveva, tempo da schifo, lì in 5, vedere la piazza con 10, dovremmo rifare la foto dopo con te lì in mezzo con dietro 10.000 persone, questa L'attivismo funziona signorina Cristina? Penso proprio di sì, sono emozionata, questa piazza ci dice che dobbiamo esercitare sempre una cittadinanza attiva, se vogliamo salvarci dobbiamo dirlo ogni giorno che ci siamo, è importante, è fondamentale, non stiamo parlando davvero di salvare piccole cose, si tratta della nostra vita, tutti i giorni, every day for future! E lo dovete esercitare sia scendendo in piazza ma anche con le vostre azioni, tutte le cose insieme ci permetteranno di aprire una nuova civiltà, altrimenti questa civiltà neonata, perché siamo neonati, gli uomini e poco che sono sulla terra, sarà una di quelle più giovani che si estinguerà! Adesso abbiamo un breve intermezzo musicale a cura di Cinellis, poi speriamo di ritrovare il nostro premio Nobel, che è uno dei, forse, il climato...